ciao sono giacomo astro dietista e nutrizionista fondatore di noritura una società che si occupa di consulenze nutrizionali l'approfondimento di oggi riguardo i prodotti mps plus mps è un integratore di aminoacidi tra cui aminoacidi ramificati componente fondamentale per la cellula muscolare per il corretto funzionamento e inoltre contiene altri minerali tra cui lo zinco il calcio il magnesio fondamentale nel metabolismo muscolare questo prodotto è utile soprattutto perché un'attività muscolare intensa è molto frequente può essere utile per chi va in palestra ma anche per chi svolge uno sport di gioco a media o alta intensità come può essere la palacanestro il calcio ad esempio gli aminoacidi sappiamo sono importanti per il metabolismo sia strutturale che energetico a livello della cellula muscolare in più troviamo zinco calcio magnesio tutti i minerali coinvolti nel metabolismo di queste cellule il consiglio per assumere correttamente questo prodotto è di assumerlo con costanza soprattutto nei periodi in cui lo sforzo muscolare si fa maggiore e in cui i tempi di recupero sono un po più ristretti si assume giornalmente l'importante assumerlo ogni 24 ore per cui viene semplice magari inserirlo in una routine mattutina mi alzo faccio colazione prendo il mio integratore e poi inizio la giornata e così giorno per giorno grazie a tutti